Corea, sequenze di curve ad alta velocità e frenate rappresentano le caratteristiche di questo tracciato Curva 3, forte frenata a ruote dritte, curve 7 e 8, cambio di direzione a 270 km all'ora Sequenza di curve 15-17, elevata energia si scarica sui pneumatici Curva 3, forte decelerazione che consente di esprimere la massima potenza frenante che raggiunge 5,2 G Le coperture anteriori, per effetto del trasferimento di carico, sopportano una spinta verticale di picco superiore ai 900 kg Curve 7 e 8, generano molta energia laterale sulle coperture in appoggio con piccoli 4,4 G Cambio di traiettoria veloce che richiede massima rigidità della struttura Condizione che assicura precisione di sterzata e aiuta il pilota nel mantenimento della traiettoria ottimale Sequenza 15-16-17, in appoggio l'anteriore destra deve garantire un'aderenza continua Per tutto l'arco di curvatura Il passaggio sul cordolo nella parte di raccordo sollecita la struttura e rende critico l'appoggio del pneumatico Problema risolto dall'elevato grip meccanico della mescola pneumatica Asfalto scivoloso e traiettorie sporche Soft e super soft sono le mescole che meglio garantiscono il compromesso tra prestazione e durata in queste condizioni